Quella era la strada da cui proveniva ieri pomeriggio intorno alle 16.40 circa Gianni Paciello, il 22enne alla guida di questa BMW di grossa cilindrata che si è schiantata su questo bar, il New Club 2000 qui siamo in piazza Silla a Sassano uccidendo quattro ragazzi che si trovavano seduti dinanzi al bar tra questi il fratello dell'automobilista del 22enne alla guida della BMW Luigi Paciello, 17 anni, le altre vittime Giovanni Femminella, 17 anni Nicola Femminella, fratelli 24 anni, i due figli del proprietario del bar e poi Daniele Paciello, omonimo dei fratelli Paciello, 14 anni giovani come ci hanno raccontato questa mattina qui a Sassano come tanti, chiamavano lo sport, il calcio, seguivano le partite in tv, erano dinanzi al bar scherzavano ed un giovane che era nell'auto che percorreva questa strada ad elevata velocità non ci sono segni di frenata sulla strada l'auto ha praticamente falciato quella vela che vedete al centro di questa rotatoria vedete ancora alcuni elementi che sono stati abbattuti ed ha concluso la sua corsa proprio contro il bar non c'è segno di frenata a terra e quindi questo drammatico, violento impatto contro questi ragazzi che hanno trovato la morte in questo pomeriggio assolutamente tragico un'intera comunità che non sa darsi pace per quanto accaduto tre famiglie nel dolore una di queste la famiglia femminella che aveva due figli uno di questi era il titolare tra l'altro a lui il papà aveva intestato il bar che vedete alle mie spalle e questi due ragazzi sono morti tra l'altro il papà dei fratelli femminella aveva trasferito da poco tempo il bar che si trovava a poche centinaia di metri da qui nel luogo dove vedete un luogo secondo quanto ci hanno raccontato anche i più anziani del posto quasi maledetto qui in quell'angolo dove la strada gira c'era anni fa un muro, un muretto definito muretto della disperazione perché molte auto andavano a schiantarsi o meglio andavano a urtare con incidenti anche a volte molto drammatici e purtroppo ieri un incidente drammatico, tragico è costato la vita a questi quattro ragazzi